Tutti rinviati a giudizio dovranno rispondere di lesioni e maltrattamenti nei confronti di dipendenti ed ex dipendenti della Girardoni Ragix di Mandello Dell'Ario, 25 dei quali si sono costituiti parte civile, Maria Cristina Girardoni, titolare dell'azienda mandellese, insieme all'ex capo del personale Roberto Redaelli, allontanato dall'azienda dopo il commissariamento e il rinnovo del CDA. A processo il prossimo 7 febbraio anche il nipote, il socio di minoranza Scani Orsini e i due medici del lavoro Stefano Martonne e Maria Papagianni. Nel corso dell'udienza preliminare che si è svolta mercoledì mattina in Tribunale Alecco, il giudice Paolo Salvatore ha accolto la richiesta del pubblico ministero Silvia Zannini che aveva avanzato l'avvio del procedimento penale per tutti gli indagati, seppur stralciando alcune imputazioni nei confronti dei due dottori che dovranno rispondere dei capi di accusa a loro rivolti, in prudenza, in perizia e negligenza, solo relativamente però ad alcuni casi. A Scani Orsini ha sanato la sua posizione per i reati legati al mancato adempimento da alcune normative sulla sicurezza sul posto di lavoro, pagando di fatto le sanzioni, ma dovrà comunque comparire in aula per rispondere dei presunti danni subiti dai lavoratori. L'indagine, coordinata dalla procura di Lecco e condotta dalla squadra mobile, era scattata dalle denunce di 54 dipendenti che avevano subito vessazioni, insulti, schiaffi, graffi e addirittura morsi sulle braccia. Il processo per mobbing di massa si aprirà dunque il prossimo 7 febbraio.